Salve a tutti e benvenuti! In questo video vi presentiamo Liner Cross e come può supportarvi nel vostro lavoro. Liner Cross è un tool versatile che può aiutarvi in varie attività informatiche, come leggere un testo a video, revisionare una traduzione, lavorare con fogli di calcolo, preparare una presentazione e così via. Ecco alcuni esempi. Vi capita mai di avere difficoltà di individuare una data cella quando lavorate con le tabelle al computer? O vi succede di dover scorrere lungo righe o colonne per trovare informazioni specifiche? Liner Cross utilizza una croce semitrasparente che segue in modo automatico il mouse e si estende sulle intestazioni di righe e colonne, così da individuare facilmente le righe e le colonne che cercate. La croce consente di localizzare in modo semplice una certa cella, individuando i dati velocemente e minimizzando il rischio di errori. Niente male, vero? Vi capita di tenere una presentazione utilizzando uno slideshow durante i vostri corsi, ai vostri colleghi o anche online? Che il tema sia o meno coinvolgente, il pubblico può avere difficoltà a seguirvi, perdendo interesse e concentrazione. Line or Cross offre una mano semitrasparente che segue automaticamente il mouse, così per il pubblico è più semplice seguirvi mentre passate da una slide all'altra e per voi diventa più semplice trasmettere il vostro messaggio e raggiungere i vostri obiettivi. E per quanto riguarda la revisione? Traduttori, scrittori, redattori e revisori hanno spesso bisogno di confrontare due documenti pagina per pagina. Spostare l'attenzione da un documento all'altro richiede tempo ed è mentalmente faticoso. Line or Cross offre una soluzione di classe attraverso due righe semitrasparenti che sottolineano il testo in due documenti contemporaneamente. Il controllo delle righe diventa semplice ed intuitivo usando due mouse, ciascuno ad un lato della tastiera. E si ha un supporto speciale per muoversi in orizzontale anche usando la mano non dominante. Tutti lo possono fare. Due righe sono particolarmente utili in fase di revisione o controllo di una traduzione. Ma Line or Cross offre una soluzione elegante anche se preferite lavorare con un solo mouse. Nella modalità Frozen Line, Line or Cross divide lo schermo in due e mostra un segmento orizzontale che si muove su e giù con il mouse per sottolineare il testo nel primo documento a sinistra e che si congela quando il mouse si muove per lavorare a secondo documento sulla destra. In questo modo il testo sulla sinistra resta sottolineato mentre lavorate sul documento di destra. Come potete vedere, Line or Cross è uno strumento versatile che può aiutarvi a lavorare in modo più efficace e piacevole. Quindi perché non provarlo? Una versione gratuita di prova è scaricabile dal sito Line or Cross.com. Line or Cross è disponibile in tre versioni. Standard, con modalità mouse singolo che include la croce per lavorare con le tabelle. Advanced, che aggiunge la mano per le presentazioni e la Frozen Line per lavorare su due documenti. E infine Pro, con in più la funzione del Dual Mouse che include le due linee per la revisione. Ma non finisce qui. Tutte le versioni di Line or Cross supportano anche una versione a colori o con texture per dare un tocco in più allo schermo riducendo lo stress visivo. Non vi resta che provarlo in prima persona. Scaricate la versione di prova dal sito Line or Cross.com. Grazie per l'attenzione e se vi è piaciuto questo video, condividetelo con i vostri colleghi e amici. Grazie a tutti.